E alla fine la spuntata Paolo Truzzo spinto dal vento di Fratelli d'Italia che al vertice decisivo ha voluto affiancare il deputato ed ex assessore regionale dell'ambiente Gianni Lampis alla coordinatrice regionale senatrice Antonella Zedda. Bisognava vincere la richiesta di leghisti e sardisti per una nuova opportunità per Christian Solinas e convincere gli alleati di centro. Ma chi è il candidato della coalizione di centrodestra che dovrà vedersela con Alessandra Todde e Renato Solu? E forse anche con l'amica di sempre Alessandra Zedda. È uno studente modello già dai tempi del classico Dettori che frequenta dal 1985 al 91. Si laurea in scienze politiche con il massimo dei voti e si distingue per l'iniziativa della gestione del numero verde dell'Ateneo Cagliaritano. Completa gli studi con un master a Roma all'Istituto Tagliacarne in materia di sviluppo economico sul settore terziario avanzato. Nel 1999 vince un concorso e diventa dipendente statale con le funzioni di rilevatore statistico. Ma la grande passione alla politica che lo porta ad un crescendo di impegni istituzionali, prima con Alleanza Nazionale e poi con Fratelli d'Italia. Dal 2006 al 2011 è presidente della circostrizione 5 del Comune di Cagliari ed entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del CTM, il Consorzio dei Trasporti Metropolitano. Nel 2014 diventa consigliere regionale. Cinque anni dopo viene rieletto ma deve rassegnare le dimissioni perché nel frattempo si è candidato a sindaco di Cagliari, dove vince al primo turno evitando per appena 91 voti il ballottaggio con la progressista Francesca Ghirra. Il suo nome è stato dal primo momento nella lista dei papabili e la corsa per Villa Devoto con l'incognita della reazione di Cristian Solinas e dei suoi unici fedeli sostenitori tra i leghisti e i quattro mori. Troppo pochi per resistere all'ondata di consensi per il primo cittadino del capoluogo che si sono concretizzati nella sala conferenze di Palazzo Tirso dopo un'intera serata di lavoro.